Jig Robo è un anime che da piccoli abbiamo guardato tutti con leggerezza senza probabilmente renderci conto della complessità di questa incredibile opera. Jig Robo nasce come manga a metà degli anni 70 dal genio di Gonagai e dai disegni di Tatsuya Yasuda. La serie prodotta dalla Toei va in onda in Giappone per la prima volta nel 1975. Si tratta forse di uno dei pochi in cui la sigla giapponese non è stata modificata in Italia. Ovviamente ne è stato adattato il testo in italiano ma la parte musicale è esattamente quella originale. Di fatto con Jig Robo ci muoviamo tra la fantascienza, il soprannaturale, la tecnologia, l'esoterico e la magia senza confini definiti. Molte questioni per tale motivo restano irrisolte e hanno alimentato nel corso degli anni numerosissime teorie. Con questo video vi spiegherò la storia affidandomi al manga che ci dà contezza di quella che è la storia così come concepita dall'autore e anche alla serie anime ma in versione sottotitolata facendo dunque riferimento ai dialoghi originali e non al doppiaggio italiano. Ma cerchiamo di partire dall'inizio. Il professor Shiba, noto ricercatore, scienziato e archeologo, durante uno dei tanti scavi effettuati in gioventù nel Kyushu scopre un'antichissima campana in bronzo con delle scritte misteriose. La campana si scoprirà a risalire all'antico regno Yamatai, un tempo guidato dalla malvagia regina Imika. Decifrando queste scritte il professor Shiba scopre che questo popolo non si è estinto ma si è in qualche modo ibernato o sigillato nella roccia, probabilmente grazie a una misteriosa e avanzatissima tecnologia che fonda insieme anche elementi magici. Questo popolo dall'aspetto demoniaco un giorno sarà destinato a risvegliarsi per riprendersi il Giappone. In questa campana è racchiusa una sorta di potere, un segreto che consentirà al popolo Yamatai di soggiogare il popolo giapponese. Non vengono date tante spiegazioni da questo punto di vista. La teoria forse più accreditata è che questa campana possieda un'energia potentissima, ossia un amplificatore di energia. Se la campana dovesse finire nelle mani sbagliate, l'umanità sarebbe perciò in pericolo. Shiba così nasconde la campana e di questa non si saprà nulla per molti anni. Comincia inoltre degli studi e dei monitoraggi dalla sua base antiatomica insieme al professor Dairi, addestrando inoltre una ragazza, Miwa, che conosce tutte le sue teorie e che imparerà a pilotare la navetta denominata Big Shooter. Facciamo un salto temporale di 25 anni e ritroviamo Hiroshi Shiba, figlio del professor Shiba, che è diventato un campione di Formula 1. Durante una gara Hiroshi ha un terribile incidente dal quale esce miracolosamente illeso. Contemporaneamente il professor Shiba rileva dalla sua base antiatomica una strana attività elettromagnetica e intuisce che i Mika e i suoi sudditi si sono risvegliati. Vuole assolutamente parlare con Hiroshi, ma sulla strada verso casa, si imbatte in Ikima, ministro della regina, che nel tentativo di farlo parlare e di scoprire dove si trova la campana, comincia a torturarlo fino a farlo cadere in un borrone. Il professor Shiba viene ritrovato da Miwa morente. Prima di esalare l'ultimo respiro, Shiba consegna a suo figlio Hiroshi un paio di guanti tecnologici e un gadget con la testa di un robot. Prevedendo una disgrazia, il professor Shiba aveva inoltre immagazzinato tutte le sue memorie e le sue conoscenze in un computer e in questo modo Shiba sopravvivrà alla sua morte corporale accompagnando Hiroshi nel suo percorso di crescita e maturazione. Il padre computer rivela a Hiroshi la verità. Unendo gli speciali guanti, Hiroshi può trasformarsi nel jig d'acciaio, l'unico essere in grado di fronteggiare Imika e il suo esercito. Unendo i guanti, Hiroshi dovrà urlare Kotezu jig, cioè jig d'acciaio, ed effettuerà una prima trasformazione intermedia per poi diventare la testa del robot. A quel punto Miwa dovrà lanciargli i restanti componenti dal big shooter. Da qui in avanti assisteremo perciò a una serie di battaglie cruente tra jig e i guerrieri Aniwa inviate di volta in volta da Imika. Siamo quindi in presenza di un anime incredibile. Il protagonista di fatto non pilota un robot ma è egli stesso il robot. Qui apro una parentesi sul doppiaggio italiano nel quale invece si parla di un esperimento che il professor Shiba ha compiuto su suo figlio Hiroshi quando aveva tre giorni di vita e si dice anche che il bambino era rimasto per molti giorni tra la vita e la morte. Ma di questo fatto non c'è traccia nel doppiaggio originale, deduco sia un adattamento tutto italiano. Il manga, composto di due soli volumi, presenta una storia più breve e semplice, ma se vogliamo anche più coerente. Il regno Yamatai non è all'interno della roccia ma negli abissi del mar del Giappone. Al momento del risveglio della regina Imika ci viene detto che il popolo Yamatai utilizza una tecnologia che appartiene a un'altra dimensione. Ovviamente l'elemento magico è molto presente anche nel manga. La campana di bronzo non ha un ruolo così centrale nel manga. In effetti questa campana ha il solo compito di svelare, attraverso le sue scritte misteriose, l'esistenza del popolo Yamatai e l'obiettivo della regina Imika. Ed è per questo che i guerrieri di Imika si dirigono in superficie per far fuori tutti gli scienziati a conoscenza del segreto. E questo ci viene mostrato anche con un paio di tavole piuttosto cruente. Hiroshi Shiba è dunque un essere umano e diventa campione di Formula 1 come essere umano. Il professor Shiba ha assistito a quella gara automobilistica e insieme a suo figlio sta tornando a casa. Sulla strada si imbattono in uno dei mostri di Imika che vuole uccidere il professor Shiba e in quel terribile scontro Hiroshi resta ferito mortalmente. Suo padre lo riporta a casa e constatato che in lui c'è ancora un lieve alito di vita lo fa rivivere, riporto testuali parole, in un corpo immortale d'acciaio dando vita a Jig, unico a poter fronteggiare gli attacchi di Imika. Dopo l'operazione il professor Shiba muore. Nel manga Hiroshi credo che sia molto più vicino a un robot. Siccome al momento dell'operazione vediamo che solo la sua testa ha fattezze umane, potremmo ipotizzare che il suo cervello sia rimasto umano, sebbene potenziato, ma ovviamente queste sono pure speculazioni perché nulla viene chiarito al riguardo. Sappiamo però che Hiroshi non mangia come gli esseri umani ma si ricarica con una potente fonte energetica. Nel manga dunque assistiamo anche alla riflessione di Hiroshi che ormai è consapevole di avere un corpo d'acciaio con il quale non può più sentire nulla, tuttavia dice a se stesso che deve spazzare via il ricordo del vecchio Hiroshi e combattere per il bene dell'umanità. Nell'anime il segreto della campana di bronzo ci accompagnerà per tutta la serie ed è il segreto che rende Hiroshi invulnerabile. Quando Hiroshi sperimenta le prime volte le trasformazioni in jig non sta a farsi tante domande anche perché lui è convinto che chiunque indossando i guanti possa diventare jig. Quando capisce che solo lui è in grado di effettuare questa trasformazione subentra la riflessione. Cosa sono davvero? Padre dimmelo. E suo padre dal ciondolo che lo tiene in contatto con lui dice tu sei un cyborg. La rivelazione avviene nell'episodio 13 quando il ragazzo vuole sapere a tutti i costi per quale motivo è diverso dagli altri. Proprio in questo episodio credo per la prima volta Hiroshi pronuncia la formula change cyborg che gli fa compiere la trasformazione intermedia prima di diventare jig. Il doppiaggio italiano ha un po' confuso tutto perché in questo episodio il professor Shiba dice a Hiroshi non che è un cyborg ma che è stato creato da un programmatore genetico quasi mettendo in dubbio quindi il fatto che il professor Shiba sia il padre biologico di Hiroshi. Ciò che comunque non viene chiarito è quando suo padre lo ha reso un cyborg. In seguito alla rivelazione comunque si apre la drammatica riflessione di Hiroshi. Sono solo un triste cyborg che ha l'unico obiettivo di combattere. Lui in quel momento non ha ancora capito bene che la sua missione è salvare l'umanità che deve immolarsi per il bene del pianeta. Dopodiché subentra un altro mistero. Dobbiamo capire in che modo Hiroshi è stato reso cyborg. A circa metà della serie il potente guerriero Garas colpisce al cuore Hiroshi con i suoi dardi speciali. Hiroshi però non muore. Questo fa supporre alla regina Himika che ci sia qualcosa che protegge il cuore di Hiroshi e anche lo stesso Hiroshi diventa via via più consapevole del motivo della sua invulnerabilità. Quando Hiroshi viene rapito dai nemici per essere analizzato con delle radiografie i perfidi ministri di Himika notano che Hiroshi ha nel torace una capsula. Himika si spinge oltre intuendo che in quella capsula deve risiedere anche un enorme potere elettromagnetico. Scrutando meglio la radiografia Himika vede che nella capsula c'è la campana di bronzo miniaturizzata evidentemente dal professor Shiba e ne riesce anche a decifrare le scritte. Anche i nemici in effetti non sapevano fino a quel momento quanti quali poteri possedesse la campana di bronzo. L'altro aspetto interessante è che quando Hiroshi matura alla consapevolezza del suo segreto compie una nuova trasformazione che lo rende maggiormente indipendente dai componenti. Questo avviene nella puntata 27. Urlando Change Cyborg si trasforma infatti in un nuovo cyborg più potente che riesce comunque a combattere in maniera autonoma. Che la campana possieda comunque una speciale energia elettromagnetica e che il magnetismo sia la forza che da un punto di vista fantascientifico spiega la nostra storia è un fatto secondo me certissimo perché in presenza di tempeste elettromagnetiche o di deformazioni elettromagnetiche Hiroshi non riesce a unirsi oppure a trasformarsi. Questo avviene sia nella puntata 5 quando si verifica un aumento esponenziale delle macchie solari sia nella puntata 28 quando Imica invia un potente mostro alato che sprigiona quello che nel doppiaggio italiano è stato chiamato raggio deformante. Come se queste distorsioni magnetiche andassero a inficiare il potere elettromagnetico della campana di bronzo. E' questa anche la puntata in cui fa la sua apparizione Antares, il cavallo alato che combinato con Jig trasformerà il robot in una sorta di centauro tecnologico. Nel corso della serie vedremo anche componenti e armi sempre nuovi in dotazione a Jig. Altra cosa che vi voglio far notare è questa. Nella puntata 7 ci viene detto che Miwa ha deciso di sacrificare la sua giovinezza per pilotare il big shooter dopo aver visto con quanta dedizione il suo datore di lavoro, il professor Shiba, stava cercando una soluzione per poter salvare il Giappone. In quel momento vediamo che il professor Shiba sta ancora mettendo a punto il jig d'acciaio. Miwa lì è già adulta e così pure Hiroshi. Quindi cosa dobbiamo ipotizzare? Che la campana sia stata impiantata quando Hiroshi era piccolissimo, infatti lui non se ne ricorda, e solo dopo Shiba abbia sviluppato la tecnologia di trasformazione attraverso i guanti sfruttando la potenza elettromagnetica della campana? Aspetto le vostre ipotesi. Ovviamente dobbiamo ricordare che si tratta di un'opera di fantasia e non possiamo pretendere di dare una spiegazione razionale a tutto. In fin dei conti io credo che il messaggio che l'autore voglia far passare sia legato alla crescente consapevolezza di Hiroshi dell'energia che ha dentro di sé. Nel momento in cui lui acquisisce tale consapevolezza cresce e matura e comprende che deve essere disposto a sacrificare la sua stessa vita per il bene dell'umanità. L'elemento magico io lo trovo davvero molto presente in questo anime. In Jigoro Bo la trasformazione di Hiroshi Shiba ha secondo me poco a che fare con la scienza e c'entra poco anche con la fantascienza perché in effetti le trasformazioni che lui effettua non appaiono troppo compatibili con la figura del cyborg. L'anime affronta il tema della trasformazione dell'uomo in macchina ma il centro del problema secondo me è che la trasformazione è reversibile cioè lui può diventare macchina e tornare in parte di carne e sangue dopo il combattimento. Questo è diciamo dal mio punto di vista difficile da concepire anche sul piano della fantascienza. Sul piano della fantascienza posso immaginare più facilmente un uomo che diventa macchina e rimane tale o un robot che diventa umano con graduali trasformazioni come avviene nel film l'uomo bicentenario per esempio ma quello che fa Hiroshi Shiba mi sembra che si avvicini più a una sorta di rituale magico sebbene spiegato attraverso la scienza. Quando Imica decifra la scritta sulla campana di bronzo effettua un rituale magico davanti a una porta di pietra del regno sotterraneo. Anche qui non è dato capire se lei stia recitando le parole lette sulla campana o una preghiera rituale già in suo possesso. In ogni caso la porta si apre e l'imperatore dell'inferno così è definito nei dialoghi originali anche detto signore del drago che di fatto è un demone si risveglia facendo piombare all'istante Imica in un sonno eterno e mettendosi a capo dell'impero Yamatai. Le sue mire espansionistiche si ampliano poiché l'obiettivo adesso non è solo il Giappone ma il mondo intero. Vedremo i tre ministri Imica, Mimashi e Amaso dubbiosi sul da farsi. Da un lato vorrebbero restare fedeli a Imica e combattere il signore del drago, dall'altro sanno che sarebbe meglio sottomettersi. Tutto ciò comunque creerà ulteriori dissidi e lotte intestine. In una puntata Imica tornerà reincarnata in un guerriero Aniwa che trascinerà perfino Jig nel regno dei morti in una battaglia senza esclusione di colpi. Intanto il comando dell'esercito viene affidato al generale Flora. Flora era una umana che morì da bambina. A restituirle la vita era stato proprio il signore del drago al quale dunque lei aveva giurato fedeltà. Flora riuscirà anche a catturare e imprigionare Iroshi. Iroshi però farà leva sul suo cuore umano e Flora alla fine deciderà di redimersi e di non piegarsi alla malvagità dopo aver scoperto che era stato proprio il signore del drago a uccidere i suoi genitori. Dopo aver aiutato Iroshi a fuggire perirà nella battaglia. Lo scontro decisivo avviene anche con il sacrificio del professor Shiba la cui capsula computer si lancerà contro la nave del nemico chiamata Yamata no Orochi mentre Jig affronterà in un duello all'ultimo sangue il signore del drago fino a disintegrarlo. Il finale del manga è ben diverso. Imika condiziona telepaticamente alcuni soldati quindi esseri umani di una base militare che cominciano a compiere una strage nel Kyushu destinato a diventare il quartier generale di Imika per partire alla conquista del Giappone. La nave ammiraglia Yamata no Orochi di Imika prende il volo ma viene improvvisamente intercettata da una nave spaziale più grande a bordo della quale si trova l'imperatore Ryuma che dopo aver vagato per l'universo è tornato sulla terra per conquistarla perché si è accorto che nessun altro pianeta è bello come la terra. Imika troverà la morte per mano di Jig il quale è pronto a ingaggiare un'altra durissima battaglia contro il più potente Ryuma per il bene dell'umanità. A conclusione di questo mio video non posso far a meno di farvi notare che diversi elementi tipici dell'opera di Jig saranno ripresi anni dopo da Naoko Takeuchi nella saga di Sailor Moon. Nemici ibernati o sigillati che improvvisamente si risvegliano, l'aspetto demoniaco di questi nemici, il concetto di energia che è di fatto già dentro i protagonisti o le protagoniste, energia che i nostri eroi ed eroine devono solo imparare a tirare fuori e a gestire, così come il tema stesso del segreto celato nel cuore del personaggio principale, la campana di bronzo nel caso di Jig e il cristallo d'argento nel caso di Sailor Moon. Entrambi i personaggi se ci fate caso devono imparare a convivere e fare i conti con l'energia che già possiedono. Ogni volta che Jig e Sailor Moon acquisiscono nuova consapevolezza della loro energia, ogni volta che sbloccano un nuovo livello energetico ottengono nuove armi e sono in grado di effettuare nuove trasformazioni. Per non parlare del tema della salvezza della Terra da entità che non sono propriamente aliene, ma hanno sempre fatto parte di quell'universo più ampio che non contempla solo la presenza dei terrestri. Credo che sia verosimile supporre un'influenza di questo tipo sull'opera di Sailor Moon. Certamente gli autori dell'anime e l'autrice del manga guardarono con interesse a quello che di incredibile era stato prodotto in passato per dare vita a Sailor Moon. Jig resta a mio avviso un'opera impegnativa, soprattutto guardata da adulti, quando ci si comincia a fare molte più domande rispetto a quando si è bambini. Un'opera che ti costringe a metterti in una predisposizione mentale particolare. Oltre alla scienza e alla tecnologia devi accettare che nella storia vi siano anche elementi magici che in molti casi rendono alcune circostanze del tutto irrazionali. E voi cosa ne pensate? Se ho dimenticato qualcosa, se ho detto qualcosa che a voi non sta bene fatemelo sapere nei vostri commenti e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!